Perfetto! Siamo sempre qui a Camporrare ma virtualmente ci spostiamo da una provincia ad un'altra, andiamo in quella di Trapani e in particolar modo a Busetto Palizzone lo facciamo con gli amici dell'azienda agricola Utimpuni di Vito San Clemente. Perfetto! Cosa producete? Allora noi prevalentemente produciamo grani antichi e poi li trasformiamo, li vendiamo trasformati nel senso che facciamo le farine di Mallorca, Pecciasacchi, Tumminia, Senatore Cappelli e poi dalle farine facciamo anche le paste, biscotti e quanto ne concerne. Poi a parte le farine abbiamo l'olio, abbiamo le conserve che vengono fatte pure con la nostra materia prima, noi usiamo soltanto le nostre materie prime, non compriamo prodotti da altri. Abbiamo i legumi e un bel po' di cose. Ottimo, ottimo, ottimo! Claudio ci sei? Hai fatto la panoramica su tutti i prodotti? Prodotti rigorosamente biologici come abbiamo detto direttamente da Busetto Palizzolo qui e chiedo all'amico dell'azienda agricola Utimpuni, avete scritto azienda agricola biologica. Biologico è solo e esclusivamente uno slogan o realmente credete in quello che è il prodotto biologico? Allora io ho iniziato a fare biologico perché ci credo, non per altri motivi come magari fanno altri. Io faccio biologico perché ho avuto delle esperienze dal ragazzo che mi hanno portato a evitare congimi chimici, diserbanti e cose del genere e quindi proprio il biologico ce l'ho dentro, non lo faccio solo per scelta. E quindi la domanda sorge spontanea. A proposito di scelta, a proposito di biologico, io le chiedo perché scegliere Siciliano? È naturale, per avere un prodotto più naturale possibile. Poi specialmente se uno lavora in questa maniera, la risposta è già data. Grazie. Ultima domanda, un feedback su queste due giornate di manifestazione? Organizzato è benissimo. Grazie.